Amici di MHA, oggi andremo a vedere un videotest del Geosensys X3 e la sua profondità estrema oltre i 3 metri. Questo strumento è collegabile all'Icon Data 2 per diventare un geoscanner 3D che genera l'imaging dell'oggetto sepolto e inoltre è corredato da un set di piastre e brande incredibile. Godetevi il video! Geosensys X3, come vedete un piccolo e compacte metallo detektor. Come è il caso con questo? Come avremo a dimostrare, usa una grande fredda, una grande maggiore. Grazie a tutti! Usando questo tipo di fredda, una piccola metallo detektor, che sono il problema con i VLF metallo detektori che utilizzano piccola piccola, come iron nails, gun shells, aluminum foil, anche una piccola metallo, non sono deteggiati. Ma siamo concentrati sui di fredda, che sono in grado. Un'altra parte è che la Geosensys X3 realizzata la identità dell'oggetto. E' vedere che l'oggetto è iron o precioso metallo. E' un'oggetto molto facile da usare la macchina, come vediamo. From here, we can power on and set the audio volume. This is a simple metal rejection. From here, for example, we can knock out the thin metal objects. Like aluminum foil. I can say that this is most useful with a small round coils. perchè con un grande ruolo non vediamo nulla cosa che è più piccola che una fischia questo è la sensibilità del detektor dove possiamo impostare il risultato e questo è il reset key preso e il detektor ignora la mineralizzazione di terra si avvicina con la terra tipo di terra resta con noi mentre faremo un basico per dimostrare su un basico test le capacità di profondità quindi proviamo il Geosensis X3 potete attenzionare dal questo nodo e potete impostare il volume al massimo sentite cosa ha fatto il detektor il ha un automatico trunaggio non devi per trunare qualcosa sentite il tics tutto è stabile il trunaggio è stato trunato da l' precedente operazione questo è molto smart quindi il trunatore è nel palco l'interno dell'interno del detektor. E sto a girarmi, per che la senti meglio il risultato. Ok, qui siamo. Sto a girarmi. E siamo pronti per dimostrare la profondità. Il primo esempio è questo metallo, su 3 metri può essere detecutato, qui siamo, 3 metri, 2 metri e 1,5 metri, un molto buon signale, e su 2 metri. Pensate quanto è semplice scansionare aria, anche molto buon signale. Ricordati di seguirci su YouTube cliccando sulla campanellina per restare aggiornato su tutte le novità. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.mhe-detector.com, dealer ufficiale della GD Detector. Grazie Simon, avete fatto davvero un ottimo lavoro in Italia per GDI prodotti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.